La linea della vita La linea della cannavesana dal 1958 sotto la sigla Satti è sorella della Torino Ceres ma non gemella, due brevi ferrovie secondarie diverse nella trazione e nel materiale. La cannavesana, nata alla fine dell'Ottocento con un bacino di utenza legato alle attività della valle, le filande di Rivarolo, Cournier e Pont e attività più modeste come trafilerie, concerie e fornaci, comunque tutte manifatture a loro capitale straniero, è oggi di fatto una metropolitana regionale. Fu aperta fra Settimo e Rivarolo nel 1885 sul preesistente tracciato di una ferrovia a cavalli nel 1866, poi nel 1887 si aggiunsero i 7 chilometri da Rivarolo a Castellamonte, recentemente però soppressi nel 1985. Nel 1892 con una convenzione con le strade ferrate al Mediterraneo che gestivano allora la Milano-Torino, i treni della cannavesana si attestarono a Torino-Porta Susa. Nel 1906, infine, fu aperto il tratto di 16 chilometri da Rivarolo a Pont. In totale, da Porta Susa a Pont ci sono 52 chilometri. Nel 1922 con un avuto di laurea di Virginia. Nel 1923 con un petro di Roma. Nel 1923 con un' haram di Gedali della cannavesana. Nel 1923 con un'arcol di umano. Nel 2024 con un'arcol di Nap. Nel 1934 con un'arcol di Nepal. Nel 3024 con un'arcol di Roma. Il treno 509 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 A Torino d'Ora è in sosta materiale della Torino Ceres. A Settimo Torinese, su questo deviatoio, lasciamo la linea FS Torino-Milano ed iniziamo la Canavesana. A Settimo 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 Torino-Milano ed iniziamo la Canavesana. Un'improvvisa piena di questo torrente, il Malone, ha lesionato il ponte interrompendo per mesi la linea. A Settimo Torino-Milano ed iniziamo la Canavesana. 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 A Settimo Torino-Milano ed iniziamo la Canavesana di 12 ALN668 Fiat. Ne sono arrivate 10 nel 1962 del tipo 1.4, marcate da D1 a D10, con due motori 203S da 110 kW ciascuno. Poi nel 1979-80 sono arrivate le ultime due, marcate di 11 e di 12 del tipo 1.2, con motore 8217, più potenti. A partire dal 1983, alle prime 10 ALN668 sono stati sostituiti i motori, con altri uguali alle due ultime 668. I rimorchi per le automotrici sono 7, marcati da R1 a R7. ! 3 4 5 Grazie a tutti.